La postazione è nostra, postazione persa. La postazione è nostra, postazione localizzata, postazione conquistata, postazione persa. La postazione è nostra, postazione contesta. La postazione è localizzata, i nemici hanno la postazione. La postazione è nostra. La postazione è stata. La postazione è stata. La postazione è stata. La postazione è localizzata, i nemici hanno conquistato la postazione. La postazione è nostra, postazione contesta. La postazione è localizzata, i nemici hanno conquistati, i nemici hanno conquistato la postazione. La postazione è localizzata, i nemici hanno conquistato la postazione. Stazione localizzata o stazione persa. Niente da fare. La postazione è nostra. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione persa. Postazione conquistata. Postazione localizzata. La postazione è nostra. Postazione contesa. Obb solamente il bil proof. Mmm... Check this! Postazione contesa. Postazione conquistata. Postazione contesa. Glide. Postazione diversa. Postazione contesa. Postazione persa. La postazione è nostra Postazione persa Postazione localizzata Postazione conquistata Postazione persa Postazione conquistata Postazione contesa Postazione persa La postazione è nostra Postazione localizzata Postazione conquistata Postazione conquistata Postazione persa Postazione conquistata Postazione persa Postazione persa Postazione key Postazione 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 Gli nemici hanno conquistato la postazione. La postazione è nostra. La postazione è contesa. Attenzione, tante nemico nell'area. Ora siete costretti a vincere. La postazione è persa. Attenzione, colpo fulminante nemico attivo. Attenzione. La postazione è localizzata. I nemici hanno conquistato la postazione. Elstorm nemico in arrivo. Postazione conquistata. Postazione è conquistata. Postazione è contesa. Postazione è persa. Postazione è conquistata. Postazione è persa. Postazione è conquistata. Postazione è localizzata. Postazione è conquistata. Il tempo stringe. Date il massimo. Postazione è contesa. Postazione è contesa. Postazione è conquistata. Postazione è conquistata. Postazione è conquistata. O stazione conquistata. O stazione contesa. O stazione persa. O stazione conquistata. O stazione persa. O stazione localizzata. Il CDP trionfa.